Passeranno ancora due settimane prima che la Sicilia diventi zona bianca e consenta la riapertura quasi totale di tutte le attività economiche eliminando perfino il coprifuoco. Friuli, Sardegna e Molise da subito saranno zona bianca e subito dopo ci si prepara per il Veneto, Liguria e Abruzzo e poi tutto il resto del paese, Sicilia inclusa. Un'intesa infatti è stata siglata tra la Regione e il Ministero della Salute per eliminare il coprifuoco nelle zone bianche ed estendere le aperture a quasi tutte le attività. Unico dubbio rimangono le discoteche. Per il resto sarà possibile nelle zone bianche con Green Pass, accesso alle sale da ballo, matrimoni, congresse e piscine ed altre attività come parchi acquatici. Si pensa che entro fine giugno si possa parlare di un ritorno alla normalità, visto che la fase dei vaccini somministrati dovrebbe superare 17 milioni entrambi le dose entro fine giugno. La nuova proposta dei governatori lanciata al Commissario per l'Emergenza Figliuolo è di garantire dosi a chi va in vacanza fuori regione per periodi lunghi almeno dalle tre settimane in su. I numeri del virus calano soprattutto grazie ai ritmi della campagna vaccinale, superate le 32 milioni di dose inoculate. In Sicilia è partita da ieri l'immunizzazione dei ragazzi che affronteranno l'esame di maturità per volontà del presidente della regione Musumeci. Visto l'approssimarsi degli esami negli istituti secondari di secondo grado, gli alunni volontariamente senza prenotazione potranno essere immunizzati. Due le tipologie di vaccino che saranno impiegate in base all'età. Per i maggiorenni si farà ricorso al siero monodose Johnson o in mancanza AstraZeneca. Ai minorenni invece verrà somministrato quello di Pfizer.